Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per lavori si segnalano corsie di destra chiuse tra Firenze-Impruneta e Firenze-Scandici. È stato chiuso lo svincolo di Firenze-Impruneta in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Ancora in direzione Bologna, codei attratti per il traffico intenso tra Firenze-Nord e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci sulla Fibili per lavori tra Ginestra-Fiorentina e la Strassigna, sono possibili disagi in entrambe le direzioni. A Firenze, Via delle Bombarde restrà chiusa fino al 28 agosto. Il tratto interessato è quello da Via delle Terme a Borgo Santi Apostoli. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!